Ma cosa è mancato davvero di Portogallo? Ma io penso sicuramente il grande calore che c'è quando faccio i concerti. Mi è mancato proprio l'idea di ritornare in un posto dove mi ero trovato bene, capisci? Sì. Questo mi è mancato tanto e mi sono sempre domandato perché non sono più ritornato dopo per tutto questo tempo. Va bene. Ma adesso me lo accorgerò dopo domani quando sarà il concerto. Certo, a domani. Avete lavorato quasi tre anni per Battito Infinito e avete scritto circa di un cento di canzoni per scegliere le dodici per il disco. Beh, purtroppo c'è stata la pandemia e ho avuto più tempo per lavorare. Sotto quell'aspetto è stato positivo perché avevi più possibilità, più tempo per mettere a posto le cose. Sotto l'altro aspetto purtroppo ha dato una botta fortissima e micidiale al mondo, no? Una cosa così. Allora ho avuto il tempo appunto di scrivere più canzoni possibili. Comunque sono lì. Oggi scrivere canzoni è difficile, oggi vendere i dischi non è più possibile. Ormai c'è il streaming. Però le canzoni sono là. Io penso che la gente le canzoni le vuole sempre sentire. Magari usciranno su un disco, usciranno sul digitale uno ogni tanto, come fanno gli americani, no? Già da tempo. Però la canzone è importante, sempre importante. Oltre a tutte le cose che hai cantato in passato e che la gente conosce. In Portogallo tutte le persone conosce le tue canzoni. Sono contento. Sì, è vero. Che viaggio è questo, di questo disco? I sentimenti, le emozioni che ti ha fatto scrivere un cento di canzoni? Ma in questo disco l'emozione è ritornare a fare musica, ritornare a vivere, ritornare a fare una vita normale, anche se è cambiato molto il mondo. Sono cambiate tante cose. Io scrivo canzoni da quando ero piccolo, per cui per me non è una novità, ma è una novità nel momento in cui succede qualcosa di così importante, da poi comunicare alla gente tramite una canzone. Questo è fondamentale. mio presente, mio futuro. È una sua frase. Mio presente, mio futuro. Certo, certo, sono d'accordo. Sono d'accordo in questa frase. Mi dice più. Sono d'accordo in questa frase perché quello che fai adesso, se lo fai bene, è anche il tuo futuro. Cioè, è da analizzare, è una frase così, però è giusta. Se io lavoro bene adesso, il mio futuro sarà migliore. Certo. Il romanticismo esiste? Assolutamente sì. Sì? Certo. Oggi è meno usato, tra virgolette, però esiste, esiste. Ed è l'amore, no? L'amore sconfinato per i figli. L'amore è una cosa. Vero? Il romanticismo. Eh, però il romanticismo fa parte dell'amore. Sì. No? Sì, sì. È legato molto stretto a questo sentimento che è fondamentale per l'essere umano. Sì. Siete d'accordo? Sì. Sì, veramente. Andiamo a parlare di Lisbona. È la città scelta per ospitare i primi concerti di 2023, del Battito Infinito World Tour. Cosa pensa del Portogallo e del pubblico portoghese davvero? Dei cuori, del cuore. Sento che c'è questo. Io faccio concerti un po' dappertutto, per cui ogni paese ha la sua caratteristica. Quello che mi ricordo io, perché sono passati tanti anni, è che c'era molto calore, molta attenzione, molta curiosità nel sentire un italiano che canta in un paese dove non tutti capiscono la lingua. Sì. E questo ho notato, ho notato che è successo le prime volte che sono venuto qua. Di Lisbona mi piace la città, la città è veramente… È bella. Io devo dire che è ordinata, devo dire che la gente la vedo tranquilla. Ieri ho fatto un giro, ti offrono la droga, purtroppo, ma succede in tutto il mondo. L'importante è non accettarlo. Sì. Avete mai provato il vino portoghese? Rosso? Rosso o bianco? Ah, rosso mi piace di più. Quale devo provare? Rosso mi piace di più. Dovete provare le due. Facciamo a pubblicità? Sì. A pubblicità? Beh, non è tanto lontana dall'italiana, no? No, un po'. È pepata? È differente. È speziata? Non tanto. È speziata, ma non tanto. Devo provare anche quella? Ah, bacchalhau. Devo farlo. No, bacchalhau. Non avete un prato che è di cucina portoghese che ti piace molto, molto, no? Cosa c'è? Dimmelo tu. Bacchalhau è pesce. Bacchalhau. Mi piace. Quattro fischi è bacchalhau. Bacchalhau meraviglioso. Ok, ti piace cucinare? Cucino poco, ma... Ma cucino? Ah, sì, è la pasta che mi piace fare. Ok, e se ti chiedessi una ricetta? Ah, sì, in tre tempi? Beh, io faccio il sugo con il tonno. Verro, Ale? Vale. E come si fa? Buonissimo. Come si... Beh, metti l'olio, la... diciamo, i pomodorini, aggiungi... fai bollire un po'. Beh, io non so bravo. Io, se facessi Masterchef, mi cacciano via, mi guardano e mi cacciano. Sì, la mia collega Sandra Ferreira ha mi fatto una richiesta, scegliere una canzone pop, una canzone felice da ascoltare in macchina mentre tornavo a casa. Una delle mie, dai. Fogo nel fuoco. Fogo nel fuoco. Sì. Va bene. Sono gli occhi tuoi dentro i miei, ne basta poco. Comunque è un nasale, capito? Eh, un'altra te... Va bene? Canta, eh? No, è massimo. Ora, una sfida. Nella lista dei desideri della vostra vita, cosa non avete ancora fatto ma voleva davvero fare? Giocare in Champions. Maraviglioso. Maraviglioso. Io aspetto che succeda. Eh, ciao, ormai. Ancora. Siamo a terminare, ma volevo fare un piccolo quiz. Sì? Va bene? Sì. Ok. Ah, se vado in Italia che cosa devo fare davvero? Devi stare a... Devi andare al sud. Ok. Perché il sud è uno dei posti più belli. la Sicilia, la Puglia, la Calabria, la Campania, anche... anche la... come si dice... la Sardegna. Ok. Va bene. Vieni andare a Roma. Roma è una città bellissima, eterna. Roma ho stato... Ancora? Allora, sei già stata. Deve andare un po' dappertutto, anche a Milano. Milano è una città molto avanti. Davvero visitare tutto? Venezia. Non so, abbiamo le Alpi, abbiamo il mare, abbiamo i laghi. In Italia c'è tutto. Ok, andiamo a fare il quiz. Notte fonda o mattina presto? Notte fonda. Spiaggia o montagna? Spiaggia. Città o campagna? Campagna. Birra o vino? Vino. Auto o bicicletta? Bicicletta. Musica da ballo o ballata? La seconda. La seconda? Sì. Rosso o blu? Rosso. Neve o sole? Sole. Scarpe o scarpe... Scarpe da ginnastica? Scarpe da ginnastica. Anni 80 o 90? Ottanta. Una canzone degli anni 80? Negli anni 80 è un albero di 30 piani di Cerentano. E delle 90? Sai che forse era anche prima. Del 90? Ce ne sono tante. Una. Samba patì. Va bene. Vuole cantare solo un poco? Un'altra te? Dai. Un'altra te Io non voglio cantare. Dove la trovo? Un'altra che sorprenda me Che bello! Grazie! Ciao sono Eros Ramazzotti sono con M80 Radio For The Life Ciao Viva la Musica Buongiorno